Benvenuti, benvenuti ad un nuovo tutorial firmato fabbioambrosi.it questo tutorial è un po' particolare, perché? perché è nato tutto con l'intenzione di raccontarvi le novità introdotte da Adobe nella versione Premiere 2019 per quanto riguarda la grafica vettoriale in realtà poi, girando su internet, mi sono accorto che la domanda che molti fanno ai vari forum e alle varie community riguarda proprio la possibilità di utilizzare loghi generati per esempio in Adobe Illustrator quindi vettoriali, direttamente dentro ad Adobe Premiere molti chiedono, è possibile importare un logo fatto con Illustrator, ingrandirlo e lavorarlo come se noi lavorassimo in Illustrator, quindi senza perdere qualità, in altre parole, totalmente in vettoriale questa più o meno è la domanda che molti fanno nei vari forum e nelle varie community quindi mi sono detto, sì ok, parlerò delle piccole novità introdotte in Premiere per quanto riguarda la grafica vettoriale, però sostanzialmente forse è il caso di rispondere un po' una volta per tutte a questa famosa domanda è possibile lavorare file vettoriali direttamente in Premiere? fantastico prima di andare avanti una piccola premessa io non sono un grafico, conosco Premiere e in questi video tutorial sto cercando di condividere con voi quello che so se ovviamente tra chi mi ascolta e tra chi guarda questi tutorial c'è qualcuno che ne sa più di me ecco, commentando questo video può condividere con tutti noi la sua conoscenza quindi ovviamente se dovessi dire delle fandoni o qualcuno dovesse aggiungere qualcosa può farlo liberamente commentando questo video iscrivetevi al mio canale YouTube perché quotidianamente no ma diciamo settimanalmente cerco di aggiungere nuovi tutorial e soprattutto di continuare il corso di montaggio video con Adobe Premiere dedicato a coloro che Premiere invece non lo conoscono proprio ecco, quindi se volete iscrivetevi e soprattutto venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it perché ogni tutorial che cerco di realizzare su YouTube ha una controparte scritta un articolo dove cerco di sintetizzare quello che ci siamo detti nel corso di questi video su YouTube perfetto detto questo passiamo a Premiere eccoci finalmente in Adobe Premiere prima di iniziare ad esplorare il meraviglioso mondo della grafica vettoriale bisogna fare una distinzione e lo dico magari per quelli che non conoscono questa distinzione fra grafica vettoriale e grafica raster di che cosa stiamo parlando? iniziamo subito con la tipologia di immagini che un po' noi tutti conosciamo e viviamo nell'esperienza di tutti i giorni le grafiche o meglio le immagini rasterizzate di cosa stiamo parlando? avete presente quando scattate una fotografia con la vostra macchina fotografica poi tornate a casa e cercate di ingrandirla per vedere magari un dettaglio e invece di vedere il dettaglio scoprite dei pixel giganti grandi come una casa facciamo un esempio avete presente quando avete una fotografia tipo questa e volete ingrandirla per andare a vedere il lago qualche dettaglio che magari vi siete persi quando eravate in vacanza con la famiglia e invece di vedere il dettaglio zoomando 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 ecco trovate soltanto pixel grandi come una casa e ovviamente tutto sfocato ecco questo è il problema che si crea quando lavoriamo con la grafica raster raster è un termine inglese che significa griglia che cosa vuol dire? vuol dire che queste immagini per esempio la fotografia che avete davanti a voi sono composte da una griglia di pixel i pixel immaginateli come dei tanti puntini rettangolari che mesi tutti insieme formano la nostra immagine ecco il problema delle immagini rasterizzate è che quando le andiamo ad ingrandire eccessivamente mostriamo sostanzialmente il trucco ovvero i pixel che compongono la nostra fotografia quindi il grande problema per chi lavora con Adobe Premiere nel dover lavorare con file rasterizzati è proprio quello di non poter ingrandire a piacimento le immagini senza dover sacrificare in qualche modo la qualità ecco perché io quando insegno Adobe Premiere a chi non ha mai utilizzato Premiere in vita sua consiglio sempre evitate di scalare troppo un'immagine e di ingrandirla troppo perché oltre il 120, 130%, 150% di scala iniziano a vedersi delle imperfezioni iniziano a vedersi i pixel questo dicevo è il problema che ha la grafica rasterizzata problema che invece non hanno le immagini vettoriali qual è la differenza tra un'immagine rasterizzata e un'immagine vettoriale se l'immagine rasterizzata è composta da una griglia di pixel al contrario un'immagine vettoriale non è composta da pixel ma è composta da geometria di quella che avete per esempio studiato a scuola quindi cerchi, quadrati, rettangoli che messi insieme in maniera molto creativa e molto artistica possono formare loghi anche molto 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 complessi immaginate per esempio il logo della coca cola ok? se lo andiamo a scomporre altro non è che un insieme di curve di formule matematiche che descrivono in qualche modo un'immagine che è quella del logo della coca cola quindi se una fotografia non possiamo ingrandirla all'infinito perché altrimenti come in questo caso andremo a svelare i pixel che compongono l'immagine questo non accade con la grafica vettoriale vogliamo vedere un esempio? passiamo immediatamente ad After Effects questo è After Effects non ne parleremo in maniera approfondita in questo tutorial però vogliamo vedere un attimino come si comporta After Effects con la grafica vettoriale e così capiremo di che cosa stiamo parlando importiamo una grafica vettoriale io ho scaricato da un sito che poi vi mostrerò comunque il link è presente sul sito fabioambrosi.it un sito meraviglioso dove potete scaricare tutti i loghi vettoriali dei brand più famosi del mondo io visto che ci troviamo in argomento visto che stiamo parlando di Adobe ho scaricato il logo della Adobe ok? eccolo qui creiamo una nuova composizione anzi creiamo direttamente una composizione a mano in HD quindi 1920x1080 25 fotogrammi al secondo i secondi basta ne avanzano per quello che dobbiamo fare ok? importiamo l'immagine che abbiamo appena scaricato all'interno di questa composizione oi là è un'immagine piccolissima è impossibile vederla allora noi facciamo una bella cosa ingandiamo con il tasto S della nostra tastiera After Effects riesce a gestire questa famosa grafica vettoriale ecco cosa ha di speciale questo logo? è un logo creato probabilmente con un software come Illustrator che non è rasterizzato ma è un logo vettoriale in altre parole è un insieme di funzioni matematiche che descrivono questa immagine quindi noi possiamo andarlo ad ingrandire praticamente all'infinito e come potete vedere la A di Adobe non perde mai qualità guardate il logo ok? se io vado ad ingrandire questo logo aggiungendo due zeri alla scala forse ho esagerato aggiungiamo uno zero soltanto alla scala ok? se io vado a vedere questo logo il logo non perde assolutamente di risoluzione non perde assolutamente qualità la linea è sempre netta è sempre pulita e noi questo logo lo possiamo ingrandire a piacimento perché appunto si tratta di un logo vettoriale se con la fotografia del lago questa operazione non è possibile perché la fotografia è un oggetto rasterizzato quindi composto da pixel al contrario un'immagine vettoriale direi la figata di un'immagine vettoriale è che noi possiamo ingrandirla indefinitivamente si può dire indefinitivamente diciamo uguale via all'infinito senza perdere assolutamente qualità ecco questa è la maniera più semplice per descrivere la differenza fra un'immagine vettoriale e un'immagine rasterizzata ed è qui chiaro che un montatore video o forse meglio un grafico però può anche servire un montatore video può avere l'esigenza di ingrandire un logo per esempio e quindi la domanda che spesso si fa è possibile fare questo lavoro che stiamo facendo con After Effects quindi ingrandire in maniera infinita un logo senza perdere qualità anche in Premiere? risposta semplice purtroppo no non è possibile fare il lavoro che abbiamo fatto con After Effects direttamente in Adobe Premiere Premiere per quanto abbia introdotto alcune funzioni interessanti per quanto riguarda la gestione della grafica vettoriale tra virgolette tra un po' capirete perché tra virgolette ancora alla release 2019 non può gestire oggetti vettoriali in senso puro mi spiego nessuno mi proibisce di importare il file che abbiamo importato per esempio prima in After Effects lo possiamo importare è un file vettoriale ma Premiere lo importa tranquillamente tuttavia quando importiamo un oggetto vettoriale dentro a Premiere Premiere appena lo importa lo rasterizza quindi crea la sua griglia di pixel come avete visto fare prima con la fotografia quindi facciamo la prova proviamo ad ingrandire questo logo direttamente in Premiere vediamo la conferma quello che vi sto dicendo abilitiamo la griglia trasparenza così da vedere meglio quello che stiamo facendo vado ad ingrandire come potete vedere purtroppo purtroppo Premiere non mantiene il file vettoriale che noi ci saremmo ci saremmo aspettati e tutti i pixel vengono inevitabilmente rivelati e la nostra immagine perde definitivamente qualità ok questo è il grande problema che molti cercano di aggirare e di risolvere appunto come risolvere ci sono diversi modi due in particolare per poter risolvere questo questo problema la soluzione che io consiglio la soluzione migliore di tutte secondo me è quella di lavorare in in after effect se solo in un secondo momento renderizzare la clip la vostra animazione e importarla in Premiere o in alternativa utilizzare la grafica essenziale che è uno strumento molto comodo perché in pochi passaggi vi permette di creare una grafica essenziale che poi potrete importare direttamente in in Premiere ma questo è argomento di altro tutorial lo vedremo nei prossimi giorni la seconda soluzione è una soluzione un po' come si dice una pezza mettiamoci una pezza forse la soluzione più scontata è quella di lavorare il nostro logo direttamente in Illustrator generare un'immagine PNG o un Natif o a seconda di quello che dovete fare di una risoluzione molto 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 grande quindi in altre parole lo scaling lo andate a fare direttamente in Illustrator e poi importare la vostra nuova immagine di una risoluzione almeno due volte quella della vostra sequenza direttamente in Premiere in maniera tale da non avere problemi di scala ok detto questo andiamo a vedere quali sono le novità introdotte da Adobe Premiere nella release 2019 perché qualcosina qualcosina per iniziare a lavorare con la grafica vettoriale in Premiere qualcosina è stata fatta ok vediamo quali sono le novità intanto vi dico che se è vero che non è possibile lavorare con grafica vettoriale pura direttamente in Premiere è però vero che dalla release 2019 quindi dalla versione 13.0 Premiere permette di trattare come oggetti vettoriali tutti gli elementi grafici generati all'interno di Premiere stiamo parlando della grafica di Premiere quindi titoli scritte semplici forme come cerchi e quadrati creati all'interno di Premiere possono essere ingranditi senza preoccuparci troppo di perdere la qualità come fare allora vediamo subito io qui mi sono messo un po' di elementi ma per fare un po' di chiarezza spostiamo le cose questo non serve via ok utilizziamo per adesso questi due cerchi ok sono due banalissimi cerchi creati utilizzando la grafica interna di Premiere primo cerchio è quello di destra eccolo qua il secondo cerchio quello più in alto è quello di sinistra ok come poter trattare questi due oggetti come fossero grafica vettoriale se evidenziate il primo oggetto per esempio il primo cerchio ok e andate a buttare un occhio qui nella gestione degli effetti nel pannello controllo effetti noterete che adobe e ingrandisco così lo vedete meglio ha introdotto un nuovo una nuova funzione un nuovo strumento chiamato movimento vettoriale ecco questo tasto questa tab è disponibile solamente per la grafica generata all'interno di Premiere se andiamo ad espandere questa tab troveremo tutti quegli strumenti che normalmente siamo soliti trovare dentro la vecchia e solita tab movimento vale a dire trovate la posizione la scala la rotazione il punto di ancoraggio con una differenza importante che se noi andiamo a utilizzare questo strumento movimento vettoriale quando andiamo ad ingrandire il nostro cerchio non andremo a perdere minimamente qualità anche se lo scaliamo praticamente di tantissime unità vedete che non c'è assolutamente perdita al contrario se invece di utilizzare lo strumento movimento vettoriale utilizzassi il solito vecchio strumento movimento presente praticamente in tutti gli oggetti multimediali di Adobe Premiere ecco che Premiere invece utilizza e tratta questo cerchio come fosse una grafica tradizionale come fosse una grafica rasterizzata e quindi avrei una perdita netta di informazioni e vedrei sostanzialmente i pixel di cui secondo lui è composta questa immagine questo è valido per le forme generate all'interno di Premiere quindi cerchi o meglio ellissi rettangoli eccetera eccetera ma è valido anche per i titoli ok ad esempio qui abbiamo un titolo un titolo di esempio generato sempre all'interno di Premiere se io utilizzassi per ingrandire questo titolo il vecchio pannello movimento vedete che io ho una significativa perdita di informazioni e magari questo è quello che non voglio se io invece di utilizzare il pannello movimento vado ad utilizzare il movimento vettoriale per ingrandire vedete che posso ingrandire quanto voglio e le informazioni restano tutte e il mio titolo non ha nessunissima perdita di qualità ok queste le informazioni per quanto riguarda la grafica vettoriale introdotta timidamente direi in Adobe Premiere 2019 ancora non è possibile lavorare con immagini vettoriali pure dentro a Premiere direttamente per farlo dovete appoggiarvi ad Adobe Illustrator e ad Adobe After Effects però come vedete già in questa release almeno la grafica generata dentro a Premiere inizia a poter essere trattata in maniera vettoriale se avete dubbi domande o volete precisare qualcosa volete aggiungere qualcosa fatelo tranquillamente rispondendo ai commenti scrivendo un commento o rispondendo a un commento direttamente sotto questo video iscrivetevi al mio canale YouTube Fabio Ambrosi venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it grazie mille a chi mi ha seguito appuntamento al prossimo tutorial ciao ciao